Il decreto della notte fra sabato e domenica, che istituiva la zona rossa in Lombardia e in altre province del nord Italia, tra cui Venezia, Padova e Treviso, aveva lasciato dei dubbi interpretativi riguardo le normali attività di lavoro per pendolari e coloro che trasportano merci. Allo scopo ha soccorso il governo stesso, emanando ieri alcune direttive valide come interpretazione autentica. Si potrà quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. L'efficacia del provvedimento è lasciata alla responsabilità personale attraverso un modulo di autocertificazione che ai pendolari sono tenuti a stampare, compilare ed esibire i controlli delle forze dell'ordine, le quali in queste ore si stanno attivando attraverso le strade, le autostrade, le ferrovie e gli aeroporti. A Venezia in particolare, la ministra dell'interno Luciana Ramorgese ha disposto che i passeggeri delle navi da crociera non possano sbarcare per visitare la città, ma si potranno transitare unicamente per entrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza. Anche il Tribunale di Piazzale Roma ha rinviato le udienze a nuova data. Mentre Valli piange la scomparsa del 68enne Fiorello Bertaggia, deceduto all'ospedale di Chioggia in seguito a una serie di patologie e affetto anche dal coronavirus, e preghe una pressione per Don Massimo Fasoleo, parroco della frazione ricoverato in terapia intensiva a piove di sacco, le cui condizioni sono state definite estremamente gravi dal fratello Fiorenzo, il sindaco Alessandro Ferro ha dato anche la notizia di una nuova positività al Covid-19 relativa a una novantenne che si trova nel reparto di geriatria nosocomio clodiense. Sono quindi tre i pazienti colpiti dal virus in città e ricoverati, gli altri due a mestre, mentre 26 i medici e gli infermieri in stato di isolamento domiciliare dopo essere stati a contatto con pazienti contagiati. Intanto questa mattina l'ufficio postale di Chioggia è stato chiuso anticipatamente alle ore 10 per il risanamento degli ambienti, lasciando aperti solo gli sportelli esterni del posto a Matt. Per chi avesse necessità del servizio, rimane aperto fino alle ore 19 l'ufficio postale di Sottomarina in via di Tirreno. Negli autobus di ACTV si potrà salire solo dalle porte centrali e posteriori. Quelli davanti, infatti, saranno limitati alla sola salita e discesa dei conducenti. L'ordinanza firmata dal direttore automobilistico Elio Zaggia dispone anche lo stop alla vendita dei biglietti a bordo per preservare la salute dei dipendenti e non esporli a contatto ravvicinato con l'utenza, la quale è altresì raccomandata rispetto del metro di distanza, considerato il fatto che negli ultimi giorni i passeggeri dei mezzi si sono ridotti sensibilmente. Anche la Capitaneria di Porto di Chioggia adotta analoghe disposizioni. Gli uffici aperti al pubblico, con eccezione per quello di armamento e spedizioni, riceveranno l'utenza solo per pratiche urgenti e indifferibili, previo appuntamento telefonico, ammettendo l'ingresso di una sola persona per volta. Viene altresì caldeggiato l'utilizzo della posta elettronica certificata per le stanze e le richieste da presentare alla Capitaneria stessa. La città comunque comincia a recepire i divieti. Se ieri sera i locali hanno avuto due ore di tempo per uniformarsi alla disciplina che li obbliga alla chiusura delle ore 18, dal momento che i controlli delle forze dell'ordine sono iniziati attorno alle 20, oggi la situazione è molto meno concitata e affollata dappertutto. Un importante supporto alle popolazioni residenti nella zona rossa viene fornito da una serie di imprese italiane operanti nell'innovazione. All'indirizzo solidarietadigitale.agid.gov.it, infatti, gli utenti della Lombardia e delle province venete, emiliane e piemontesi coinvolte dall'emergenza coronavirus possono accedere gratuitamente o con forti sconti ad alcuni servizi per tutta la durata delle misure di contenimento. Da Amazon a Team, da Vodafone a Fastweb, in tanti mettono a disposizione piattaforme per lo smart working, trasmissioni in streaming video per film e serie TV, gratuità del traffico voce, libri in formato ebook, posta certificata e giga di navigazione. In alcuni casi è richiesta l'adesione allo Speed, il sistema pubblico di identità digitale promosso dal Ministero per l'Innovazione, con modalità differenti sia gratuite che a pagamento. E allora, Lorenzo, parlaci di questo Crea la tua pizza. Allora, lunedì abbiamo dedicato una serata a voi, ai clienti, e alla vostra creatività, abbiamo creato un'offerta speciale che però vi lascio un po' liberi di sbizzarrirvi, perché lunedì c'è la promozione Crea la tua pizza, quindi c'è una pizza margherita con tre gusti a vostra scelta, completamente liberi, potete creare voi la vostra combinazione di gusto, bibita e caffè a 10 euro. Sono tutti lunedì sera, c'è la promozione di questo tipo sulla pizza. Quindi vi aspettiamo e vediamo cosa ha tirato fuori dal cilindro, che pizza ci create lunedì sera. Uxolicidio e tentato suicidio ieri a Spinea, in via del commercio 5. Il medico neurologo in pensione Gianfranco Pasco, di 81 anni, ha prima ucciso la moglie coetanea Agnese Mazzan con una iniezione di farmaci, dopodiché ha tentato il suicidio senza riuscirci. Il tutto è accaduto alle prime ore del mattino nel soggiorno di casa, dove la donna è stata trovata riversa nel divano. L'anziano medico è ora ricoverato all'ospedale di Mirano. I coniugi hanno lasciato una lettera in cui spiegavano le motivazioni del gesto. Lui è ammalato a terminale oncologico, lei con qualche acciacco dovuto all'età. La coppia, molto conosciuta a Spinea, lascia la città nello sgomento. La coppia, molto conosciuta a Spinea,